Ora vi faccio vedere io, tornate a lucidare Scarpa. Mamma, mamma, vai, vai! Il ragazzo di strada, che fece grande una nazione. Che ne diresti di fare un provino per il Santos Football Club? Che accidenti ha quello? Rifalbo. Hai mostrato a tutti quella parte di noi. È quello che ci serve. Pelé. Giovedì, prima serata, Canale 5.